La pazienza dei cacciatori abruzzesi è arrivata al capolinea, siamo a Ferragosto e del calendario venatorio per la stagione 2015-2016 non si sa ancora nulla. Torna sul piede di guerra l'associazione Federcaccia del presidente Ermano Morelli, contestando un ritardo ormai diventato inaccettabile, quello dell'ufficio caccia della regione Abruzzo, del suo assessore a ramo Dino Pepe. E' ora di dire basta e rivendicare i diritti che nelle altre regioni d'Italia sono semplicemente la normalità, tuona Morelli. Il calendario venatorio dovrebbe essere pubblicato per il 15 giugno, ma per l'assessore Dino Pepe, l'aggiunta da Alfonso, dice Morelli, è evidentemente un optional da utilizzare a proprio discernimento, sotto acuta da parte di Federcaccia la totale chiusura di rapporti con i rappresentanti del mondo venatorio, che sta caratterizzando la gestione Pepe della caccia. Morelli denuncia il silenzio e le presunte inefficienze avute in cambio della richiesta di revisione del piano. Federcaccia annuncia che se non ci sarà una repentina soluzione della questione, e rispettosa soprattutto delle normative regionali e nazionali, pretenderemo un incontro con il presidente D'Alfonso perché si faccia chiarezza su quanto accade nei confronti dei cacciatori. Morelli di fatto chiede le dimissioni dell'assessore Pepe. Chi è incapace a fare il proprio lavoro non può ricoprire un incarico, sia esso amministrativo o politico. Meglio che stia a casa e lasci il posto a chi sa fare.